Continua lo stato di degrado delle pensilini ad Agropoli, nonostante le tantissime segnalazioni da parte dei cittadini, anche di anni addietro, la situazione rimane invariata. Nel giugno dello scorso anno un cittadino agropolesi aveva segnalato ripetutamente questa problematica, evidenziando la mancanza di tabelle di arrivi e partenze che mettevano in grossa difficoltà sia i cittadini che i turisti. Ma da allora la situazione è rimasta praticamente uguale. In questi giorni invece stanno arrivando varie segnalazioni da parte dei cittadini. In questo caso la problematica sollevata è l'utilizzo delle pensiline come discarica, situazione che mette in evidenza l'inciviltà di determinate persone. In località Frascinelle è stata segnalata una pensilina dell'autobus trasformata in una sorta di deposito per i rifiuti, ma nonostante questo saltano subito all'occhio le condizioni della pensilina totalmente abbandonata e in uno stato in cui è impossibile anche l'utilizzo. I cittadini agropolesi continuano a far presente queste situazioni che, se risolte, renderebbero più agevole la loro quotidianità.